Mi chiamo Marco Conti, sono un psicologo, esperto in neuropsicologia, quindi per psicofisiologia che si occupa di riabilitazione cognitiva. Collavoro con l'Aspi, associazione Parkinson e Subra nella sede di Legnano, alla riabilitazione di pazienti parkinsoniani. Utilizziamo Reability della società Imaginary per la riabilitazione dei pazienti affetti da Parkinson e parkinsonismi. Rispetto ad altri software simili utilizzati nella riabilitazione cognitiva dei pazienti, i Serious Game di Reability hanno il grande vantaggio, per quanto riguarda i pazienti parkinsoniani, di imporre un preponderante utilizzo degli arti superiori. L'uso di Reability porta ad alcuni vantaggi, tra cui un miglioramento dell'attenzione, concentrazione e delle risposte motorie durante le settimane di utilizzo e, non ultimo, una quota importante di soddisfazione da parte del paziente nell'aver partecipato e aver visto un miglioramento delle proprie prestazioni.